Professoressa, vi vedo qua con tutta la vostra classe, li avete portati anche in un orario fuori da quello di Amore, perché è una serata importante, perché la ritenete importante? La riteniamo importante semplicemente perché sono tematiche che loro trattano, anche se in maniera trasversale, non per quanto riguarda il nostro paese, ma per quanto riguarda paesi che sembrano lontani, ma in realtà sono vicini. Più vicini di quanto possiamo immaginare. È una problematica. Abbiamo appena concluso una chiacchierata con l'autrice, la quale con questo linguaggio duro, con questo linguaggio quasi selvaggio, racconta questa storia e ci fa piacere che la facciamo noi, perché dobbiamo smetterla di attestrare le ragazze a combattimenti di karate per difendersi, mentre invece dobbiamo educare i maschi a un certo comportamento. Saremo felici di sapere l'opinione dopo. Sicuramente, sicuramente, anche perché i ragazzi sono molto attenti e sono anche acuti nelle loro osservazioni. E poi vi inviterete a un tema scritto. Sì, ma loro già hanno lavorato, noi li abbiamo preparati per farli affrontare al meglio questa serata. Ci fa piacere, se ce li fate avere sicuramente li possiamo pubblicare. Con onore e piacere. Grazie. Grazie.